Signore, in cosa la posso aiutare? Sì, tu puoi aiutarmi. Il dottor Seward è dentro quel palco ed è all'istante, cara, che io mi incontro con lui da solo. Tu andrai a dirgli che c'è un messaggio per lui nel ridotto. Un messaggio per il dottor Seward nel ridotto all'istante? Bene, ora va. Un messaggio per il dottor Seward nel ridotto all'istante? E non ricorderai niente di quello che ti dico. Togli all'istante. Bizzarro. Signore, in cosa la posso aiutare? In cosa la posso aiutare? Ma cosa ti ho preso, maledetta? Perché non gliel'hai detto? Che cosa non ho detto? Cretino, il messaggio sul messaggio. Il messaggio di chi? Lascia perdere. Glielo dirò io di persona. Per la tua miserevole prestazione tu non riceverai nessuna mancia. Nessuna mancia? Ah, e questo è un ricordi, eh? Guarda, è scritto qui. Chiedo bene, lei è il dottor Seward, proprietario di un manicomi a Whitby? Ma sì, certo. Ho appena acquistato la badia di Carfax e a quanto mi risulta è contigua al suo terreno. È vero, è vero. E lei è? Oh, mi sia perdonato. Sono talmente conosciuto nel mio paese che io talvolta dimentico addirittura di presentarmi. Io sono il conto... Dottor Seward, c'è un messaggio per lei nel ridotto all'istante. Non c'è mancia. Scusatemi. Dottor Seward, c'è un messaggio per lei.